Anche tu sei un appassionato di Masterchef. Hai tutte le giacche di barbieri nell'armadio. Fai dell'impiattamento una questione fondamentale. Fai spesa come se fossi nella dispensa di Masterchef. E in cucina ogni momento è un momento pressure. La presentazione è tutto. Mangiare è secondario. Non abbandoneresti mai per nulla al mondo la tua mystery box. Di la verità, ti senti un po' cracco. Vero? Giorno dopo giorno la tua passione si trasforma in devozione. Le tue fantasie prendono pieghe sempre più bizzarre. Giusto Joe? Il tuo incubo peggiore è perdere il crempione. Poi vedi questo spot e scopri che non sei solo. Perché tutti noi siamo pronti per la nuova stagione. Masterchef. Non puoi stare senza. Giovedì alle 21.10 su Sky 1.